Il codice in bilancio Il codice ha detto che è stato depenalizzato ma non è vero. Volevo un chiarimento su questo discorso. Ha letto proprio l'articoletto del codice. Grazie. Io non ho visto Ballarò. Se avesse detto davvero che il falso in bilancio è punito da 2-5 anni ha mentito. Perché il falso in bilancio di una società quotata in borsa è punito fino a 4 anni. Cioè da un minimo di 15 giorni a un massimo di 4 anni. Se la società non è quotata in borsa e è punito fino a 3 anni, nella ipotesi in cui non abbia cagionato danno a nessuno, si tratta di una contravvenzione punita fino a un anno e mezzo. In effetti quindi il codice civile prevede tre figure di falso in bilancio punite come ho detto. Ma è questa la dimostrazione delle mani in cui siamo. Questa è gente che truffa, fa il gioco delle tre carte. Vedete, se ritorniamo ai tempi in cui Berlusconi era processato. Se domani, il giorno dopo la prima udienza, il Parlamento avesse emanato la seguente legge. Il falso in bilancio non è più reato. Perfino delle facce di bronzo come questa gente avrebbero sopportato un costo politico sostanzialmente inaccettabile. Come si fa a dire all'intera nazione, a tutte le imprese della nazione, falsificate pure i bilanci perché non è più reato. Allora, si opera in un modo diverso. Si fa finta che il reato ci sia. Ma si costruisce una norma che in gergo tecnico si chiama autoabrogante. Le spiego subito perché. In primo luogo perché il falso in bilancio di una società non quotata, quindi tutte le SRL del Paese, tutte le S.P.A. del Paese non quotate in borsa, è punito a querela di un socio o di un creditore. Ora è evidente che se io faccio una querela nei confronti di qualcuno, lo faccio perché questo qualcuno mi ha cagionato un danno. E infatti la sussistenza del danno è elemento costitutivo del falso in bilancio. Questo nuovo falso in bilancio è reato solo se ha cagionato un danno ai soci o ai creditori. E' una cosa impossibile perché il falso in bilancio non cagiona mai un danno, cagiona un vantaggio. Ne faccio un esempio. Io sto facendo, uno l'ho finito, l'altro lo sto finendo, i processi per falso in bilancio alle due società di calcio della città di Torino. Torino e la Juventus che hanno fatto, secondo le mie indagini, poi deciderà il giudice, una serie continuata di falsi in bilancio sopravvalutando i calciatori, vendendoli per cifre assolutamente in vereconde. In questo modo facevano finta di avere dei bilanci inutili quando non era vero. Questi falsi in bilancio hanno procurato dei grandi vantaggi alla società che se no non avrebbe potuto iscriversi al campionato, non avrebbe potuto godere dei diritti televisivi, non avrebbe potuto godere delle sponsorizzazioni sportive. Cioè il falso in bilancio cagiona dei vantaggi. Quindi chi è che fa la querela? Ovviamente nessuno. E allora già costruire un reato in cui si dice che il falso in bilancio è un reato, però si procede solo a querela del danneggiato, significa dire che gli asini volano, perché non è vero. Poi c'è il falso in bilancio delle società quotate in borsa per cui si procede di ufficio, vuol dire che la querela non c'è. Se si scopre il falso in bilancio di una società quotata in borsa, la Fiat, si può procedere di ufficio. Io qualche processo per falso in bilancio nei confronti delle società quotate l'ho fatto. Fino a quattro anni è punito. Questo vuol dire che a norma della legge Cirielli, un'altra legge che si è studiato Berlusconi e il suo entourage, il falso in bilancio di una società quotata in borsa si prescrive in sei anni, che per una serie di meccanismi che non vi sto a spiegare, possono essere prolungati fino a sette e mezzo. Questo vuol dire che per condannare concretamente una persona ad andare in prigione, la sentenza definitiva deve intervenire prima che, dal momento in cui il falso in bilancio è stato consumato, siano passati sette anni e mezzo. Ora voi mi dite, vabbè, ma sette anni e mezzo non è che siano poi tanto pochi. E invece sono pochi, perché vedete c'è una grande differenza tra un furto, un omicidio e il falso in bilancio. Se vi rubano qualcosa, voi ve ne accorgete subito, magari se vanno rubato la macchina parcheggiata qua fuori, ve ne accorgete fra tre ore e domani o stasera andate dalla polizia e fate la denuncia. Nel giro di due o tre giorni il rapporto arriva in procura e si comincia a lavorare. Ma per il falso in bilancio non succede così. La Guardia di Finanza, se oggi fa la verifica presso la libreria del nostro ospite, speriamo che non succeda, prende in esame gli anni oggi, gli anni 2004, 2005 e 2006, non il 2007, perché siccome ancora non sono scaduti i termini per presentare la dichiarazione dei redditi relativa al 2007, la Guardia di Finanza non ha interesse a verificare un anno per cui ancora deve essere presentata la dichiarazione. Quindi esamina 2004, 2005 e 2006. Supponiamo che scopra un falso in bilancio consumato nel 2005 o anche nel 2006. Il rapporto sulla mia scrivania arriverà alla fine del 2008. Io mi sono già sparato tre o due anni in cui non ho fatto nulla, perché nemmeno lo sapevo che c'era il falso in bilancio. Poi, come ho detto prima, il falso in bilancio serve per fare su dei soldi neri. Sti soldi neri, certo, non è che stanno sul conto ufficiale della società. Ma li troviamo probabilmente in una banca di Londra. Allora io devo scrivere a Londra e chiedere di fare delle indagini per vedere se per caso su quella società di cui ho trovato traccia in qualche piega della documentazione che ho sequestrato sono arrivati dei soldi. Un'erogatoria del genere non dura mai meno di sei mesi, ma spesso dura un anno. Intanto io faccio tutte le altre cose e diciamo che nel giro di due anni un'indagine su un falso in bilancio può essere chiusa. Tre per due fa cinque. Se io chiedo oggi al mio tribunale di Torino, non so qui a Bologna come funzioni, ho finito le indagini, processa Pinco Pallino per falso in bilancio, oggi siamo a febbreo 2008, il tribunale di Torino mi fissa l'udienza a metà del 2009, la prima udienza. Quindi immaginiamo quel falso in bilancio consumato nel 2006, io finisco l'indagine nel 2009, chiedo al tribunale di processarlo e lui se va bene me lo fissa alla fine del 2010, metà del 2011. A quel punto devo fare primo grado, secondo grado è Cassazione. Il tutto in due anni e mezzo. È evidente che si prescrive tutto prima. C'è ancora una chicca, e questo veramente è una roba... Mica tutti i falsi in bilancio sono reato. Perché un falso in bilancio sia reato, bisogna che la posta falsa sia superiore all'1% del patrimonio netto della società. Questo vuol dire che se una società, il patrimonio netto vuol dire tutto quello che ha, ha 10 milioni di euro di patrimonio netto, che poi non è così tanto, no, 100 milioni di euro di patrimonio netto, il falso in bilancio punibile deve essere superiore a 1 milione di euro. Cioè 999 mila euro sono un falso in bilancio lecito. Cioè 10 milioni di euro di patrimonio netto, che poi non è così tanto,